Ogni diabetico è solo con i propri problemi, insieme per risolvere. E questo è lo slogan che la sezione FAN da Cilento di Ano ha scelto per la Due Giorni, che analizzerà a più voci e da più punti di vista il preoccupante di lagare della malattia, il diabete appunto, nel territorio più a sud della provincia di Salerno. L'appuntamento è stato fissato per i giorni 4 e 5 ottobre presso l'hotel La Torre di Palinuro. La prima giornata sarà incentrata prevalentemente sugli aspetti scientifici, mentre nella successiva l'attenzione sarà focalizzata sulla prevenzione e quindi al miglioramento dello stile di vita, tanto che è stata prevista anche un'escursione sul sentiero di Capo Palinuro. Una a due giorni organizzata tenendo conto del nuovo modello assistenziale per i diabetici e che proprio per l'emergenza della cronicità della malattia nel distretto Sapri Camerota impone una riflessione ancora maggiore, tenuto conto che oggi sono circa 2.500 i pazienti in cura con una percentuale di incidenza che si aggira sul 4,6%, i picchi maggiori ad Alfano, Toriorsai, a Casaletto Spartano, Morigerati e Tortorella. Le giornate del diabete a Palinuro avranno inizio alle 9. Grazie a tutti.